Il 28enne di origini brasiliane Bruno Macchi ha confessato il brutale assassino di Luca Tis, un uomo stravagante ma non pericoloso, lo definiscono i conoscenti, non lo pensavamo in grado di commettere un simile atto. Grazie a dichiarazioni fiscali false vantava un elevato tenore di vita, le fiamme gialle di Trieste hanno sequestrato beni per un totale di 1,5 milioni di euro nei confronti di un pluri pregiudicato. Servizi di controllo più efficienti per gli agenti della Polizia Stradale di Udine grazie alla tecnologia Street Control. Da inizio anno controllati 12.400 veicoli, 184 le violazioni al codice della strada. Con i nove d'aspo combinati ad altrettanti tifosi bergamaschi dell'Atalanta salgono ad oltre 20 divieti di accesso a manifestazioni sportive emesse dalla questura di Udine in questi ultimi giorni. Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori, puntuale anche oggi l'informazione di Telepordenone, tante le notizie che approfondiremo nel corso di questa nuova edizione del telegiornale. Apriamo subito parlando dell'omicidio del 58enne Luca e Tisi avvenuto a Udine all'alba di sabato scorso. Allora vediamo nel servizio di apertura, tracciamo un profilo del 28enne di origine brasiliana Bruno Macchi, reo e confesso dell'omicidio Tisi. Sentiamo. Bruno Macchi, detto il brasiliano, è stato definito molto collaborativo fin dai primi minuti dell'interrogatorio con gli inquirenti. Il procuratore di Udine, Massimo Lia, ha parlato così del 28enne, autore dell'efferato omicidio del 58enne senza fissa dimora, originario di Zoppola, Luca Tisi, avvenuto intorno alle 5 del mattino di sabato 15 aprile a Udine nella galleria dell'ex cinema capital vicino piazzale Osoppo. In questi primi giorni di indagini, le forze dell'ordine, dal momento in cui il cerchio ha cominciato a stringersi intorno a Macchi, stanno provando a ricostruire i motivi che hanno portato al delitto. Il movente però al momento non c'è. I due si conoscevano? E se sì, quali erano i rapporti tra di loro? Se si conoscevano invece, cosa ha spinto Macchi a massacrarlo con 30 coltellate e un colpo in testa letale? Nei giorni scorsi sono state molte le persone a spendere parole in ricordo di Tisi, molto conosciuto da chi risiedeva e lavorava in zona e descritto sempre come una persona educata e rispettosa. Ma sono tante anche le perplessità che alimentano la figura di Macchi, cittadino italiano di origine brasiliana, residente a Udine e noto per aver lavorato come cameriere in diversi bar e ristoranti in città e provincia. Persona eccentrica ma tranquilla, l'ha definito il procuratore Lia, riportandone a risultanza delle prime indagini. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si trovava in un appartamento di via Tiberio Deciani. Sono proprio le persone residenti e chi lavora in questa via ad aver tratteggiato una sua prima descrizione. La notte c'era un continuo via vai, spesso capitava che le persone suonassero al mio campanello perché sbagliavano numero civico, ha riferito una vicina di casa. Da quando abito qui non ho mai visto gli scuri aperti in quell'appartamento, ha proseguito. La cosa che si sente ripetere più spesso è che il 28enne è un uomo stravagante ma considerato incapace di commettere un delitto simile. A conoscere Bruno Macchi sono però anche alcuni esercenti proprio della galleria dell'ex capital dove Tisi passava le notti ed è stato brutalmente assassinato che hanno confermato che lo stesso frequentava la zona. E anche da questa informazione che si muovono gli inquirenti per capire cosa sia successo esattamente quella notte. Dalla ripresa delle telecamere si è dedotto che chi ha compiuto l'omicidio abbia impiegato 4 minuti a uccidere Tisi con 30 coltellate e un colpo alla testa prima di uscire dalla galleria e dirigersi verso la roggia. Per quanto riguarda le indagini, il procuratore LIA ha confermato che ormai troppo tardi per capire se quella notte Macchi fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Andiamo avanti con la cronaca. Una ragazza di circa 28 anni di età è stata soccorsa questa mattina dai sanitari per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Chionse nella frazione di Taiedo in via del Bando per cause in corso di accertamento da parte della compagnia dei carabinieri di Pordenone. La conducente dell'auto ha perso il controllo che è finita in un fosso con acqua e a bordo strada. Nessun altro mezzo coinvolto è riuscita ad evadere autonomamente dall'abitacolo della macchina ed è stata aiutata a raggiungere la strada da alcuni passanti che hanno anche allertato il 112. Sul posto si è precipitato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Sanodecimo e l'automedica da Pordenone. La ragazza è stata presa in carica dai sanitari che poi l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale di San Vito al tagliamento. Attivati per quanto di competenza anche i vigili del fuoco. Ancora tre persone sono state soccorse nella tarda mattinata a seguito di un incidente stradale, questa volta caduto lungo la A4 in direzione Trieste-Venezia nel tratto di Redi Puglia-Monfalcone-Ovest uscita a Villesse per cause da accertare. Il conducente di una vettura ha perso il controllo della macchina che si è ribaltata, anche in questo caso nessun altro mezzo coinvolto dopo la chiamata al 112. Sul posto si sono precipitati i sanitari che hanno preso in carico le tre persone che viaggiavano sull'auto, tutte hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche il personale dell'autostrada, tutti coordinati dal COA, il centro operativo autostradale di Udine. Un uomo ancora di circa 64 anni è stato soccorso invece nel pomeriggio per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente accaduto sulla bretella Sacile-Ovest per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Sacile. Ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è finita su un fossato a bordo strada, è riuscito ad evadere autonomamente dall'abitacolo della macchina sul posto, si sono precipitati i sanitari che poi hanno trasportato al Santa Maria degli Angeli di Pordenone l'uomo a seguito del trauma toracico non grave che ha riportato, infatti è rimasto stabile e sempre cosciente. Adesso andiamo a Trieste perché le fiamme gialle hanno eseguito una misura patrimoniale nei confronti di un pluri pregiudicato, sequestrati beni per quasi un milione e mezzo di euro. Sentiamo il servizio. I finanziari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste hanno recentemente eseguito un decreto di sequestro di prevenzione nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso ed attualmente residente a Nettuno a seguito di vari reati sul territorio friulano quali truffa, ricettazione, riciclaggio e frodi dell'IVA intracomunitarie nel settore delle autovetture di alta gamma effettuati tra il 2002 e il 2021. Il soggetto era stato colpito più volte da provvedimenti restrittivi della propria libertà personale. Il provvedimento di sequestro è messo dal Tribunale di Trieste, sezione penale e misura di prevenzione ha riguardato l'intero patrimonio immobiliare e immobiliare del destinatario del provvedimento costituito tra l'altro da disponibilità finanziarie depositate in un conto corrente detenuto in Austria, due immobili di pregio di cui uno con piscina ubicati nelle province di Roma e Latina, cinque autovetture di grossa cilindrata e dieci orologi di lusso per un valore complessivo pari a circa 1,4 milioni di euro. Le indagini patrimoniali sono state eseguite dai militari in forza al nucleo di polizia economico e hanno evidenziato come a fronte di un elevato tenore di vita si contrapponessero dichiarazioni fiscali false. La sproporzione tra il profilo reddituale e gli investimenti effettuati è risultata superiore a 4 milioni di euro nell'arco del ventennio oggetto di indagine. Le fiamme gialle triestine hanno inoltre accertato come i proventi illeciti delle condotte di reatto in parte detenuti all'estero fossero stati reinvestiti attraverso l'acquisizione di beni mobili e immobili anche per il tramite di società ad hoc riconducibili alla moglie del soggetto pluripregiudicato e ad altri soggetti prestano nome a soldati proprio al fine di sottrarsi all'applicazione di ogni misura cautelare e reale. Il sequestro di patrimoni illeciti detenuti in Italia o all'estero oppure sotto forma di beni rifugio assume infatti un valore sociale in quanto consente di restituire alla collettività le ricchezze accumulate nel tempo dalla criminalità. E ancora operazione su scala nazionale da parte della Guardia di Finanza, operazione doganale congiunta denominata TIN-CAN coinvolte le autorità doganali e di polizia di 58 paesi oltre 98 mila chilogrammi di cocaina sequestrati. L'operazione ha riguardato i controlli per lo più negli scali e portuali e ha permesso chiaramente di tutelare anche quelli delle Friuli. Venezia Giulia. Dal 14 novembre al 9 dicembre 2022 si è svolta l'operazione doganale congiunta denominata TIN-CAN con la collaborazione di 58 paesi. Lo sforzo congiunto di autorità doganali, forze di polizia e altre agenzie di tutto il mondo ha portato a livello mondiale al sequestro di 98 mila 734 chilogrammi di cocaina e a 43 arresti. Grazie alle specifiche analisi e all'intensificazione dei controlli nei porti italiani maggiormente a rischio, in stretta sinergia con la Guardia di Finanza e con il coordinamento dell'ufficio investigazioni e dell'ufficio intelligence della direzione antifrode, i funzionari dell'agenzia delle dogane dei monopoli e le fiamme gialle di Roma hanno intercettato al porto di Civitavecchia oltre 72 chilogrammi di cocaina purissima, in particolare nel corso di controlli su container provenienti dal Sud America, l'attenzione dei finanzieri del locale gruppo e dei funzionari dell'agenzia delle accise, dogane e monopoli presso lo scalo portuale, si è soffermata su uno dei numerosi bancali carichi di banane rinvenendo grazie anche all'infallibile fiuto dei cani antidroga, jackpot e pesce, 62 panetti sotto vuoto occultati tra migliaia di caschi di banane. Le partite di droga avrebbero potuto fruttare una volta giunta nella piazza di spaccio proventi per oltre 7 milioni di euro. L'operazione Tin Can organizzata nell'ambito del programma di controllo container in collaborazione con l'ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine ha avuto l'obiettivo di contrastare il contrabbando di cocaina e altre potenziali spedizioni illecite che avrebbero riguardato anche i porti del Friuli Venezia Giulia perpetrato mediante l'utilizzo del metodo cosiddetto RIPON-RIPOFF nel settore dei trasporti trasfrontalieri di merci a mezzo container. Questa tecnica prevede una metodologia di occultamento per cui una spedizione legittima solitamente containerizzata viene sfruttata per contrabbandare in particolare cocaina dal paese di origine o dal porto di trasbordo verso il paese di destinazione. Nei casi di RIPOFF spesso nello spedizioniere e nel destinatario sono a conoscenza del fatto che la loro spedizione viene utilizzata per contrabbandare merci illecite mentre il carico containerizzato si sposta dal paese di origine o dal porto di trasbordo al paese di destinazione. Gli addetti ai lavori di fiducia nella catena di approvvigionamento spesso inconsapevolmente sfruttati da gruppi organizzati criminali ma non mettono le spedizioni illegali. Il 31 marzo si è svolto il debriefing dell'operazione dove sono stati illustrati i risultati a livello globale. Con i nove d'Aspo combinati ad altrettanti tifosi bergamaschi dell'Atalanta salgono ad oltre 20 i divieti di accesso a manifestazioni sportive emessi dalla questura udinese in questi ultimi giorni. I nove tifosi atalantini per i prossimi sei anni dovranno presentarsi ad un ufficio di polizia in occasione di ogni partita della loro squadra del cuore per dimostrare di non essere allo stadio. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Il questore di Udine Alfredo D'Agostino ha disposto una ventina di divieti di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, i cosiddetti d'Aspo, per comportamenti violenti anche in ambito non sportivo o per reati commessi nelle vicinanze dello stadio Friuli. I provvedimenti seguono i nove già adottati a gennaio nei confronti di tifosi bergamaschi per comportamenti messi in atto durante la partita udinese-Atalanta dell'ottobre dello scorso anno. Tra i nuovi d'Aspo più severi c'è quello della durata di sei anni con obbligo di presentazione alla questura di residenza per un triennio nei confronti di un quarantenne veronese denunciato dalla polizia in occasione di Udinese-Verona del 30 gennaio. Un cittadino triestino denunciato al derby tra Pordenone e Triestina non potrà invece vedere dal vivo una partita di calcio per i prossimi due anni si tratti di Serie A o di una gara di promozione. Due supporter dell'udinese sono stati colpiti poi da divieto di accesso a tutte le partite di calcio professionistico e semiprofessionistico per la durata di un anno e mezzo quindi potranno far ritorno allo stadio non prima dell'inizio del campionato 2024-2025 rischiando in caso di violazione l'arresto in flagranza. Uno dei due, un 31enne, è stato anche denunciato per un comportamento violento nei confronti di un altro sostenitore della Curva Nord al termine di Udinese Spezia del 26 febbraio mentre l'altro, un 46enne, è stato raggiunto da analogo divieto in seguito alla condanna penale per le violenze nei confronti di uno steward in servizio allo stadio nello scorso campionato. Infine, a distanza di ben tre anni, è stato emesso un divieto a un cittadino austriaco per fatti risalenti alla partita delle nazionali Under 21 di Austria e Germania in occasione degli europei del 2019. Il provvedimento è stato notificato solo pochi giorni fa quando il tifoso, in veste di turista, è stato rintracciato dalle forze dell'ordine durante un controllo all'ignano sabbia d'oro. E negli ultimi giorni sono state molte le segnalazioni giunte da tutta Italia la Polizia di Stato, circa un volantino affisso sulle facciate di alcune abitazioni e condomini intestato al Dipartimento della Sicurezza Pubblica. Nello stesso si intima ai cittadini di fare rientro presso i luoghi di usuale residenza e evidentemente una truffa da non assecondare. L'avviso esordisce richiamando un inverosimile obbligo ai sensi dell'articolo 650 del codice penale di lasciare le eventuali abitazioni ospitanti per un non meglio specificato fine. obbligo che verrebbe verificato da un presunto controllo delle forze di polizia. Chiaramente il vero corpo di Polizia di Stato rassicura la cittadinanza della falsità del documento la cui provenienza non è chiaramente riconducibile ad alcuna autorità istituzionale ma risiede nel probabile tentativo di alcuni malviventi di introdursi indisturbati all'interno delle abitazioni. L'obiettivo dei truffatori è quello di ingenerare preoccupazione soprattutto tra gli anziani inducendo i malcapitati a lasciare le abitazioni incustodite così da potervi accedere per rubare soldi, gioielli o preziosi. Ad oggi pensate nella provincia di Trieste non sono stati segnalati tali manifesti ma qualora ci si imbatta in simili volontini si è pregati fanno sapere dalla questura di recarsi all'ufficio di polizia più vicino o alla stazione dei carabinieri per denunciare l'accaduto. Servizi di controllo più efficienti per gli agenti della Polizia Stradale di Udine grazie alla tecnologia Street Control da inizio anno ad oggi controllati 12.400 veicoli, 184 le violazioni riscontrate al codice della strada. Controlli più efficienti per gli agenti in forza della Polizia Stradale di Udine l'apparecchiatura denominata Street Control in dotazione su tutti i mezzi del corpo e consente agli operatori una lettura ottica della targa dei veicoli in transito l'immediato accertamento presso le banche date di polizia utilizzato soprattutto per individuare quelli che guidano privi di copertura assicurativa o senza aver revisionato il veicolo. La Polizia Stradale di Udine ha messo in atto dei controlli mirati appunto a garantire la sicurezza della circolazione pubblica predisponendo dall'inizio dell'anno 85 servizi specifici lungo le arterie autostradali e le principali strade della provincia durante i quali sono stati controllati 12.400 veicoli dalle verifiche effettuate sono state riscontrate 184 violazioni al codice della strada in particolare 6 veicoli sono risultati privi di copertura assicurativa e 91 mancanti della prescritta revisione periodica i controlli che verranno rafforzati in occasione dell'avvicinarsi delle festività del 25 aprile e primo maggio erano stati intensificati durante il periodo pasquale avevano portato tra l'altro al controllo di un minibus con targa albanese il veicolo era stato fermato in A23 direzione Tervisio Udine all'interno dell'area di servizio di Campiolo Ovest e risultava trasportare 19 passeggeri il conducente non ha esibito fisicamente la patente di guida infatti ha mostrato agli operatori di polizia solamente una foto che aveva sul proprio smartphone inoltre risultato non solo sprovvisto della carta conducente che consente di registrare i tempi di guida e di riposo la velocità e la distanza percorsa dal veicolo ma aveva inserito altre due card appartenenti a terze persone gli è stata pertanto contestata la guida senza patente il mancato inserimento della carta conducente oltre ad altre infrazioni tra cui il superamento del limite di velocità il lavoro della polizia stradale attraverso i controlli che pone in essere costantemente sarà sempre di più finalizzato ad aumentare la sicurezza sulle strade e delle persone trasportate proprio anche grazie all'ausilio delle nuove tecnologie a disposizione e continua senza sosta l'attività della sezione di polizia stradale in stretta sinergia con gli uffici della motorizzazione civile di Pordenone servizi di monitoraggio e verifica della regolarità delle procedure d'esame di teoria per il conseguimento della patente categoria E-B nelle scorse settimane in abiti civili i poliziotti hanno partecipato assieme ai funzionari della motorizzazione ad una seduta d'esame teorico scoprendo tre uomini di origine pakistana intenti a truccare l'esame prima di presentarsi alla prova avevano occultato all'interno delle rispettive felpe un telefono cellulare mentre attaccati al petto con del nastro bioadesivo erano nascosti un dispositivo modem contenente un adattatore con nano sim e una batteria di supporto che alimentava sia il modem sia il cellulare occultato per comunicare con l'esterno le risposte da quanto è emerso venivano fornite alle candidate attraverso un auricolare che gli stessi avevano nell'orecchio mediante insomma questo trucchetto due dei tre candidati erano addirittura riusciti a superare l'esame scoperto l'accaduto gli agenti hanno proceduto al sequestro dei congegni e denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Pordenone i tre giovani per truffa aggravata ai danni dello Stato i volontari della squadra comunale invece di protezione civile di Grimacco sono intervenuti tra ieri sera e questa mattina per quanto di competenza per la rimozione di alcune piante finite sulla carreggiata nel tratto viario Clodig e Trusne la strada è stata messa in sicurezza e il tratto è aperto in attesa di ulteriori verifiche tecniche del versante finalizzate ad accertare la sua stabilità sul posto anche l'operaio del comune il sindaco e i vigili del fuoco fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita l'IRS Friuli Venezia Giulia ha svolto un'indagine sulle dichiarazioni IRPEF del 2022 la nostra regione è ottava in Italia sul reddito complessivo Trieste è la decima provincia per quanto riguarda invece i comuni Moruzzo si conferma è quello più ricco davanti a Pagnacco, Duino, Aurisina e Campo Formido a Drenchia il reddito medio più basso a Trieste invece i ricchi sono nel quartiere San Vito sentiamo il servizio il Friuli Venezia Giulia si posiziona all'ottavo posto per reddito complessivo IRPEF in base alle dichiarazioni presentate nel 2022 la regione si colloca all'ottavo posto della classifica a livello nazionale per reddito complessivo medio dichiarato ai fini dell'IRPEF la Lombardia è la regione più ricca con una media di 26.617 euro mentre in fondo alla graduatoria si colloca la Calabria con 16.296 euro lo rende noto una rielaborazione dell'IRES Friuli Venezia Giulia curata dal ricercatore Alessandro Russo su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze il reddito imponibile medio in regione pari a 22.624 euro a livello provinciale Trieste presenta il valore più elevato ossia un reddito imponibile medio pari a 24.072 euro mentre Gorizia registra quello più basso con 21.415 Trieste risulta anche la decima provincia a livello nazionale la seconda del Triveneto dopo Bolzano nel 2022 il numero di contribuenti è aumentato dello 0,8% sia a livello nazionale sia in regione dopo la flessione dovuta alla crisi sanitaria del 2020 che aveva avuto pesanti ripercussioni anche sulle attività produttive l'incremento di scontrato è infatti riguardato principalmente i lavoratori dipendenti aumentati del 2,2% in un anno mentre il numero dei pensionati è rimasto sostanzialmente stabile almeno 0,1% la distribuzione dei contribuenti regionali in classi di reddito complessivo mostra che il 36% si colloca al di sotto dei 15.000 euro mentre lo scaglione con la frequenza più elevata è quello tra i 15.000 e i 26.000 euro infine 45.737 contribuenti pari al 4,9% dichiarano più di 55.000 euro tra questi solo 7.482 totalizzano più di 120.000 euro in Friuli Venezia Giulia il comune di Moruzzo si conferma al primo posto il 46esimo a livello nazionale con oltre 30.000 euro di media seguito da Pagnacco Duino Aurisina e Campo Formido al quinto posto come l'anno scorso si trova Udine le ultime posizioni sono occupate prevalentemente dai comuni delle valli del Nattisoni in particolare Drenchia Grimacco Stregna Savogna e Pulfero tra gli ultimi 10 dove la quota dei redditi da pensione è particolarmente elevata e i valori medi sono inferiori a 17.000 euro c'è anche Cristina Antonuti capogruppo di Confcommercio federe preziosi provinciali di Udine nel rinnovato consiglio direttivo del gruppo nazionale dei dettaglianti ora fino a occasione dell'assemblea che si è tenuta a bave a titolare di gioielleria udinese è entrata a far parte nel collegio dei revisori dell'organigramma 2023-2027 che vede la guida Stefano Andreis nuovo presidente nazionale al posto di Giuseppe Aquilino che ricoprirà ora la carica di presidente onorario al terzo mandato Antonuti rilanciando le parole di Andreis e sottolinea la necessità di riaffermare e valorizzare il ruolo del dettaglio orafo quello di anello di congiunzione fra il pubblico e la produzione i nostri negozi sono una vera e propria cartina al tornasole che individua quali sono le tendenze del consumatore non solo italiano poiché le nostre vetrine sono le migliori ambasciatrici della bellezza e della qualità del made in Italy e adesso sentiamo le parole dell'onorevole Emanuele Loperfido questa mattina è venuto a trovarci in studio con lui abbiamo fatto il punto gli abbiamo chiesto un commento in merito alla nuova giunta che accompagnerà Massimiliano Fedriga per i prossimi cinque anni sentiamolo onorevole Emanuele Loperfido insomma un'importante presenza di Fratelli d'Italia all'interno della nuova giunta e Fedriga un importante traguardo certo siamo soddisfatti come coordinatore provinciale sono molto soddisfatto del voto che ci hanno dato gli elettori i simpatizzanti gli iscritti tutti coloro i quali hanno creduto negli amministratori che Fratelli d'Italia ha voluto candidare all'interno delle liste a supporto del presidente Fedriga un voto che ci ha premiato come primo partito a livello provinciale e con questo ci siamo presentati al tavolo delle trattative che ci hanno portato ad avere appunto tre assessori a livello regionale uno ovviamente in rappresentanza di Pordenone in questo caso l'ex assessore comunale e neo assessore regionale Cristina Mirante candidata proprio nel segno del pragmatismo ovvero per far ripartire la regione dopo cinque anni condizionati dalla crisi energetica ovviamente dalla pandemia e anche dall'aumento dei costi delle materie prime che hanno bloccato alcuni cantieri abbiamo voluto candidare degli amministratori perché loro sanno esattamente dove intervenire per far ripartire le macchine amministrative per quanto riguarda invece la coalizione di centro-destra si è persa la città di Udine e questo andrà ad influire negativamente sugli equilibri regionali Udine è una città sicuramente particolare ci sono tante tante tensioni che si sono accavallate una dopo l'altra già cinque anni fa è stata una competizione elettorale sul filo del rasoio quella volta abbiamo vinto noi questa volta ha vinto il centro-sinistra certo è che noi ci presentavamo come coalizione unita gli altri hanno dovuto fare una coalizione a raffanno un po' di tutto e alla fine l'assommatore dei voti ha premiato il centro-sinistra al quale ovviamente auguriamo buon lavoro ringraziamo il senatore uscente sindaco Fontanini per il lavoro svolto come Fratelli d'Italia sicuramente compieremo un'attività di opposizione sulle cose concrete per fare in modo che le cose che servono a Udine vengano fatte indipendentemente dal fatto che ci sia un nuovo sindaco ecco tornando alla giunta insomma l'opposizione si è già fatta sentire per quanto riguarda la riconferma di due assessori esterni in particolare su Riccardi che copre la delega alla sanità molto particolare in questo periodo un commento su questo credo che al centro-sinistra non rimanga altro che continuare a fare polemiche il voto dice che l'elettorato ha premiato il presidente Fedriga l'ha premiato nettamente con percentuali quasi bulgare relegando il centro-sinistra appunto a fare soltanto questo tipo di opposizione per quanto riguarda la riconferma dell'assessore Riccardi alla sanità alla protezione civile significa che le capacità che ha dimostrato durante la pandemia questa volta potranno essere destinate a migliorare la sanità regionale quello che tutti ci aspettiamo e anche come Fratelli d'Italia daremo il nostro contributo confidando appunto che non ci sia più la pandemia a disturbare l'azione riformatrice voluta dal presidente Fedriga per quanto riguarda invece il suo impegno a Roma penso che un occhio di riguardo sia anche improntato verso il Friuli Venezia Giulia assolutamente sì in questo momento sia come membro di commissione estera che commissione difesa stiamo cercando un po' di vedere quelli che possono essere anche i legami sia dal punto di vista formativo ma anche dal punto di vista del commercio estero che possono dare supporto alle nostre aziende quindi i legami con l'ITS locali con il percorso formativo anche a braccetto con la regione e con la neoconfermata assessore Rosolen per fare in modo che si creino i lavoratori del futuro per le aziende locali che possono intervenire e investire anche all'estero anche perché insomma il Friuli regione che di fatto cerniera per quanto riguarda l'import e l'export verso la Mitte all'Europa che potrebbe contribuire a una forte crescita del nostro territorio giustamente proprio così è l'obiettivo principale in questo momento l'Europa sta allargandosi ad est e il miglior ruolo che può avere il Friuli Venezia Giulia è proprio di essere quello di fare da cerniera tra due mondi quello occidentale quello latino e il mondo dell'est facendo in modo che la crescita economica passi per il Friuli Venezia Giulia dando stabilità ai paesi dell'est Europa che vedono l'Europa come l'obiettivo lo sbocco basato sulla democrazia e sullo sviluppo economico che dà ulteriore stabilità quindi un ruolo centralissimo che il Friuli Venezia Giulia deve svolgere e adesso non cambiate canale perché l'informazione di Telepordenone tornerà tra pochissimo dopo una breve pausa pubblicitaria di nuovo in vostra compagnia prosegue l'informazione di Telepordenone adesso andiamo a Bibione perché in vista dell'estate 2023 e riapre il punto di primo intervento il direttore generale dell'Ulse 4 Mauro Filippi e il sindaco della località Balneare Maurutto fanno sapere che per i turisti insomma questo punto di primo intervento è una garanzia e un bollino che segna vacanze sicure e serene sentiamo da domani sarà operativo il punto di primo intervento di Bibione che da sempre rappresenta anche l'avvio dell'attività estiva dell'Ulse 4 infatti per oltre 5 mesi l'anno questa azienda sanitaria attiva il progetto vacanze in salute che prevede il potenziamento di mezzi attrezzature personale sul litorale compreso tra Bibione e Cavallino tre porti nonché attività che nel rimanente periodo impegnano l'azienda nella programmazione e predisposizione di analisi e rendi contazione la struttura dedicata all'emergenza e urgenza posta in una palazzina di via Maia è stata rinnovata nel 2022 offre all'utenza un'ampia sala d'attesa spazi rimodulati e più accessibili per le attività in emergenza nuove attrezzature mediche da sabato il punto di primo intervento sarà attivo nelle 12 ore giornaliere con la presenza di un'ambulanza e relativo equipaggio dal primo maggio l'attività verrà ampliata nelle 24 ore nel periodo di maggior afflusso turistico dal 20 maggio a fine estate scatterà un ulteriore potenziamento con le entrate in servizio della seconda ambulanza ed equipaggio nelle 24 ore dal giorno di apertura sarà presente anche il personale interprete amministrativo ossia una persona sempre presente che garantirà la mediazione linguistica tra pazienti di lingua inglese e tedesca e il personale medico per pazienti di altre lingue sarà disponibile una mediazione linguistica telefonica oltre al punto di primo intervento nella palazzina di Via Maia i turisti troveranno anche un servizio di emodialisi estivo e l'ambulatorio di medicina turistica inizia l'attività estiva per garantire vacanze sicure ai milioni di turisti che giungeranno nella località balneare di Bibione ma anche ai lavoratori stagionali agli imprenditori del turismo e a tutti coloro che arrivano a Bibione osserva il direttore generale dell'Ulss 4 Mauro Filippi l'attività è stata organizzata per essere adeguata al periodo estivo con il massimo potenziamento previsto nei mesi più affollati dell'estate perché inevitabilmente l'aumento dei flussi determina un incremento dell'attività di emergenza urgenza tra maggio e settembre 2022 il punto di intervento è registrato 6.198 accessi di cui 4.367 in codice bianco che quindi non necessitavano di questo servizio ad ogni modo tutti i pazienti sono stati presi in carico e i più gravi sono stati gestiti negli ospedali di Portogruaro e Sandonà a loro volta potenziati proprio per l'arrivo dei pazienti dal litorale dall'estate all'inverno perché quella che si è appena conclusa è stata una stagione di grandi successi per la polisportiva ghiaccio di Cloud sentiamo la stagione invernale 2022-2023 è stata costellata di ottimi piazzamenti per i pattinatori della polisportiva ghiaccio Cloud spiccano tra i tanti un podio al trofeo delle regioni a Trento e uno all'evento internazionale Narcisa Cup di Gerenis in Slovenia risultati che fanno ben sperare per il futuro del movimento anche in vista dei prossimi impegni internazionali delle Olimpiadi invernali Cortina a Milano per un po' la squadra si è dovuta allenare in trasferta a Piancavallo la stagione è iniziata con un pizzico di sfortuna per via dell'Ejov la necessità di ristrutturare le palaghiaccio ha fatto sì che non potessimo usarlo ha spiegato la presidente della polisportiva Giovanna Di Daniel dobbiamo ringraziare il Piancavallo per averci ospitato fino alla riapertura della struttura nonostante questo con fatica e sacrificio abbiamo portato avanti l'attività e da quando ha riaperto abbiamo ricominciato ad allenarci regolarmente a Cloud i più piccoli hanno partecipato a gare intersociali di categoria bronze ottenendo piazzamenti di livello tra cui diversi podi diversi primi posti sono stati conquistati da Timothy Tonegutti unico rappresentante maschio della società un'altra bronze mai alle schiutta si è giudicata due podi di fila ad Asiago un terzo posto nella stessa categoria per l'una Michieletto e ottimi piazzamenti anche per Martina Fabbro a Feltre ed Asiago i ragazzi e i ragazzi della polisportiva Ghiaccio concluderanno la stagione il 29 e 30 aprile a Degna vicino a Bolzano alle gare silver hanno partecipato invece le gemelle triestine Valentina e Aurora Ara uno dei risultati più notevoli è stato il secondo posto di Aurora al trofeo la squadra agonistica ha partecipato anche ad un open internazionale a Pontebaco conquistando il podio con Anna Carlini a Valentina e Aurora Ara quest'ultima si è ripetuta anche la scorsa settimana con un bronzo a Jesenice in Slovenia oltre agli atleti e all'atleta dobbiamo ringraziare anche la nostra insegnante Marina Barova che investe anima e corpo nel trasmettere la sua passione ha sottolineato Di Daniel vuole portare i ragazzi e le ragazze più in alto che può e li segue con attenzione dal più portato al meno portato dal più piccolo al più grande credo molto in lei e ripongo molta fiducia nella sua persona indetta la nuova assemblea dei soci di Credima in capo a Friulovest e Banca che si terrà proprio domani a Sacile il servizio l'assemblea l'assemblea annuale dei 4.500 soci di Credima la mutua di Friulovest e Banca è in programma domenica a Sacile a disposizione gratuitamente per tutta la cittadinanza ci saranno tante visite ed esami medici e approfondimenti per tutelare la propria salute il tutto nella splendida cornice di Palazzo Ragazzoni un'iniziativa davvero importante parlare di salute molto spesso si sente anche come termine abusato bisogna entrare nel concreto e fare azioni pratiche e significative in questo Credima ci ha lavorato molto e ha proposto appunto anche l'incontro su Sacile l'assemblea su Sacile ma con tante iniziative che hanno a che fare proprio con aspetti pratici e concreti che possono aiutare le persone a fare un'azione legata soprattutto alla prevenzione a migliorare la propria qualità della vita ad essere più sensibili a se stessi e quindi anche a vivere meglio all'interno della comunità Da sempre Credima propone un nuovo paradigma della salute Credima non vuole lasciare indietro nessuno quindi la volontà di Credima è prima di tutto quella di consentire a tutti di poter accedere alle prestazioni sanitarie siamo ormai al 10-11% di popolazione che non si rivolge al sanitario pubblico perché non ha le risorse o i tempi di attesa sono tanti o lunghi che di conseguenza non possono garantire risposte adeguate e allora la soluzione più giusta è proprio quella di investire proprio sulla propria salute non tanto in una logica riparativa che comunque è sempre necessaria ma su quella soprattutto preventiva e proattiva cioè il cittadino deve essere responsabilizzato competente consapevole di avere un patrimonio formidabile che è quello proprio di preservare la propria salute attraverso tutta una serie di azione e adesso facciamo il punto nel prossimo servizio sul ricco programma di eventi in programma a Pordenone nel fine settimana che porterà ai tradizionali festeggiamenti del 25 aprile per il patrono di San Marco sentiamo sarà un fine settimana ricco di eventi per la festa del patrono San Marco quello in programma a Pordenone da oggi a martedì 25 aprile nel pomeriggio è stata infatti inaugurata nella casa del mutilato in piazza 20 settembre la rassegna d'arte curata dall'associazione Panorama con opere di mosaico pittura e scultura mostra che rimerà aperta fino al 21 maggio sabato alle 17 e 30 sempre a cura dell'associazione Panorama ci sarà invece il recita al pianistico del giovane pianista pordenonese Filippo Alberto Rosso già vincitore di numerosi premi e concorsi internazionali che si esibirà nella chiesa della Santissima Trinità in collaborazione con Piano City Pordenone domenica 23 aprile alle 15 è in programma la visita al Duomo di San Marco e all'Organo Storico e alle 16 ci sarà un concerto d'organo a cura della parrocchia di San Marco lunedì 24 aprile la storica società operaia di Pordenone insieme all'Orchestra San Marco organizzano invece il concerto per il Santo Patrono il programma del concerto prevede musiche di Samuel Barber Menjava in Britain ed Arthur Fute lo eseguiranno l'Orchestra San Marco il tenore Alessandro Cortello il cornista Guglielmo Pellarin per la direzione del maestro Eddie Denadai il concerto accoglie la sfida di proporre pagine musicali inconsuete che possano introdurre ad autori e sonorità nuove anche nella scelta dell'organico martedì 25 aprile a cura della Propordenone dell'Associazione Panorama della parrocchia di San Marco e della storica società operaia si terrà la messa pontificale in Duomo alle 11 celebrata dal vescovo Giuseppe Pellegrini qui seguirà alle 12 e 15 la consegna dei premi San Marco nella sala consigliare del comune di Pordenone a cura della Propordenone e del comune stesso la Proloco Pordenone organizza poi un'intera giornata all'aperto con la tradizionale Fortagliada al parco di San Valentino dalle 8 e mezza è prevista la partenza della marcia a Cat la 7 e 12 km alle 11 invece ci sarà l'apertura del chiosco con apertura anche della casetta Book Crossing alle 11 e 30 è in programma la consegna del materiale didattico alle scuole dell'infanzia di Pordenone anche l'associazione Panorama infine organizza un picnic Fortagliada alle 13 sulle rive del Noncello e alle 16 è in programma il concerto sempre sulle rive e ora parliamo di musica domani sera al Capitol di Pordenone è in programma una serata evento a scopo benefico con la leggenda del punk Marky Ramon storico batterista dei Ramons che si esibirà insieme ai War Dogs e ad Andrea Rock sentiamo sabato 22 aprile al Capitol di Pordenone arriverà una leggenda del punk rock per una serata evento a scopo benefico sul palco sarà infatti protagonista Marky Ramone storico batterista dei Ramons la band dei Finti Fratelli fondata nel 1974 a New York che si esibirà insieme ai War Dogs e ad Andrea Rock la serata ha anche uno scopo benefico infatti con una raccolta fondi da destinare alle attività dell'associazione milanese l'isola che non c'è che da anni grazie anche all'impegno di Andrea Rock si occupa del sostegno ai bambini con disabilità attraverso attività collegate alla musica Marky Ramone presenterà il singolo pezzi metali I don't wanna to grow up stampato su vinile in tiratura limitata e disponibile in formato digitale nelle maggiori piattaforme web le tipiche sonorità punk californiane proposte dal live degli Undead faranno da apripista al classico set Ramones proposto dai War Dogs per due live che andranno a completare il DJ set di Marky Ramone per un finale veramente esplosivo imperdibile inoltre la mostra fotografica di Henry Ruggeri fotografo ufficiale di Virgin Radio dove poter ammirare scatti iconici ed inediti della band oltre a memorabilia e cimeli originali special guest dell'evento direttamente da Virgin Radio sarà DJ Ringo che condurrà una tavola rotonda dove verranno illustrati i vari aspetti realizzativi del progetto Pet Sematary e I Don't Want to Grow Up sono i due super classici dei Ramones che compongono il singolo realizzato come detto a scopo benefico da Marky Ramone registrato tra Treviso e Milano esce per le etichette Mani in Alto Records e DLSD Records ed è stampato fisicamente su vinile in edizione limitata disponibile su tutte le principali piattaforme web audio in formato digitale a partire da giovedì l'obiettivo del singolo è di raccogliere fondi per finanziare corsi di apprendimento della musica da destinare ai ragazzi dell'associazione L'Isola che non c'è di Milano che da anni Andrea Rocca attraverso il progetto Punk Goes Acoustic segue e sostiene attraverso un gran numero di attività come in occasione del precedente singolo dei War Dogs un'illustrazione di John Armstrong di Punk Magazine imprezzogisce la copertina del vinile mentre il mix ed il mastering sono eseguiti magistralmente da Marino De Angeli che con un tocco di modernità uniti alla magia del drumming di Marchi Ramone riesce a far rivivere ancora una volta il mito dei Ramones Adesso apriamo la parentesi dedicata al mondo dello sport parliamo di calcio sentiamo le parole di Mister Di Carlo del Pordenone sull'ultima di campionato domani che vedrà la squadra pordenonese scendere in campo contro l'Albinoleffe Mister Di Carlo domani l'ultima di campionato Antonion arriverà l'Albinoleffe tre punti possono cambiare la storia dei vostri playoff assolutamente sì domani l'obiettivo è tornare alla vittoria cercare questi tre punti per cercare almeno di avere un piazzamento migliore di quello che oggi abbiamo che è la quarta posizione poi noi dobbiamo fare il nostro cercando di arrivare alla vittoria poi quello che succederà negli altri campi lo vedremo a fine partita a parte il primato tutti i verdetti sono ancora in bilico in questi ultimi 90 minuti chiaro che durante la partita sarà meglio non fare troppi calcoli pensare al campo anche perché noi non possiamo fare troppi calcoli noi dobbiamo andare in campo con l'obiettivo dei tre punti facendo una prestazione di squadra con un spirito elevato ma soprattutto anche con una qualità di gioco migliore mi piaceva vedere le distanze della squadra sempre le stesse perché nell'ultima partita tratti siamo stati un po' lunghi abbiamo lavorato bene in questa settimana qua sotto questo aspetto e poi l'ultima in casa davanti ai nostri tifosi abbiamo ci sono tutti gli ingredienti per cercare di arrivare ai tre punti con l'entusiasmo e con quell'unità che in questo quindi da quando sono tornato sto cercando di mettere in campo attraverso con la squadra e con i tifosi e servirà anche a essere concreti con le occasioni che capiteranno l'importante è avere coraggio avere coraggio provarci sempre testardi insistere perché prima o poi le giocate che facciamo le occasioni che ci creiamo che sono tante poi prima o poi saremo molto più concreti saremo molto più fiduciosi perché qui è solo questione di fiducia è solo questione di testa e di fiducia questo ho lavorato questa settimana cercando di mettere dentro tutte queste queste situazioni di gioco che sono quelle che poi ti fanno vincere partite perché questo campionato ci insegna questo che è un campionato equilibrato i particolari hanno fatto la differenza e su quello dobbiamo andare a lavorare anche perché dopo ci saranno anche altre partite dove i particolari veramente faranno vincere partite arrivare al finale prossimo in classifica permetterebbe anche di avere una pausa in cui gestire le forze e riprogrammare è importante ma sì è importante soprattutto perché poi tu giochi tante partite fra munizioni infortuni e quant'altro può succedere questo però a me mi piacerebbe quello che conta è quello che ho detto alla squadra e come c'è l'atteggiamento in cui domani entriamo in campo e la voglia di voler prenderci questi tre punti che sono attraverso un atteggiamento una prestazione una compattezza importante ma soprattutto il coraggio alla squadra richiederò coraggio ho chiesto coraggio e domani mi piace vedere perché i nostri tifosi hanno bisogno di vedere una squadra che è coraggiosa che ha voglia di andare ad arrivare ai tre punti attraverso l'intensità e le giocate che sappiamo fare e chiudiamo con la palla canestro adesso le dichiarazioni dell'assistant coach dell'App World Wild West Grazzini sulla sfida di domenica che vedrà impegnata l'APU di Udine contro l'Assigecco Piacenza palla a due alle 17 Coach Grazzini domenica alle 17 l'APU All Wild West Udine sarà di scena al Palabanca contro Assigecco Piacenza già affrontata e superata nella gara di andata del Girone Blu al Palacarnera di 10 lunghezze rispetto a quel match non ci sarà uno dei protagonisti della formazione emiliana ovvero Schis per il quale la stagione è già finita che cosa cambia per l'APU? Cambia che affronteremo una squadra che è vero che perde un loro punto di riferimento nel ruolo di centro ma guadagna minuti per Gerardo Sabatini che è il loro motore la loro la loro fonte di energia e anche un giocatore con grande acume tattico avranno avuto una settimana in più per rodare il loro assetto di small ball e quindi ci aspettiamo di giocare al Palabanca contro una formazione che metterà pressione energia durezza su ogni possesso in attacco e in difesa noi dovremo essere pronti ad affrontare questo urto e farci forti delle nostre certezze dei nostri cavalli di battaglia Bisogna cancellare le delusioni delle ultime due gare con Milano e Torino e anche migliorare la posizione in classifica nel Girone Blu alla luce anche del posticipo che c'è stato mercoledì tra Fortitudo e Urania Milano che è sancito la vittoria dei bolognesi Certamente è anche curioso affrontare una formazione a distanza di sole due partite rispetto alla volta precedente è una caratteristica che ci riporta un po' a quello che saranno i playoff e sarà molto curioso penso per gli spettatori vedere quali saranno stati gli accorgimenti tattici di entrambe le formazioni e quindi sarà una partita da godere non solo dal punto di vista della sfida ma anche dal punto di vista tattico e di quali possono essere state le aggiunte sia in attacco che in difesa In generale come sta la formazione bianconera e che speranze ci sono che venga convocato per questa gara anche Raffaele Gaspardo? Siamo in mancanza di un giocatore straniero ormai da due mesi e siamo in mancanza di Raffaele dal derby per quanto riguarda Raffaele si sta inserendo reinserendo gradualmente negli allenamenti contiamo di averlo a disposizione questo vorrà dire che dovremo fare una scelta di turnover all'ultimo momento e ancora ci prendiamo tutto il tempo necessario per poter valutare quale sarà la formazione migliore per vincere al Palabanca E con questo è tutto grazie come sempre per averci seguiti vi do appuntamento a domani nuova edizione del nostro telegiornale vi lascio alle previsioni del tempo e una piccola pausa pubblicitaria grazie e un buon proseguimento di serata qui su Telepordenone arrivederci D'Arpa, Friuli, Venezia, Giulia vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni sabato un anticiclone garantirà condizioni di stabilità con correnti più secche da nord lunedì e martedì la regione sarà interessata da due fronti che determineranno precipitazioni diffuse andiamo nel dettaglio sabato 22 cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa variabile sulla zona montana 20 a regime di brezza le temperature le minime sulla pianura tra 6 e 8 sulla costa tra 9 e 12 gradi le massime sulla pianura tra 19 e 22 sulla costa tra 16 e 19 gradi temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 9 a 2000 metri 3 gradi domenica 23 cielo variabile sulla costa in prevalenza nuvoloso sulla pianura da nuvoloso a coperto sulla zona montana dal pomeriggio sera aumento della nuvolosità con possibili piogge da deboli e moderate più probabili sulla zona montana sulla costa soffierà vento da sud moderato le temperature le minime sulla pianura tra 9 e 11 sulla costa tra 11 e 13 gradi le massime sulla pianura tra 19 e 21 sulla costa tra 16 e 18 gradi temperature medie della libera atmosfera a 1000 metri 9 a 2000 metri 4 gradi grazie a mercoledì grazie a tutti 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 grazie a tutti